ci siamo bene cassaforte pcl arrivare alla cassaforte prima di lei e poi il pcl un'arma magari un'arma le abbiamo persi tutte perchè abbiamo salvato e perchè l'abbiamo salvato questa volta l'avremmo dovute tenere o mi sbaglio vabbè cos'è avevamo sbagliato qualcosa no vabbè forse fa parte della storia oh penso che forse doveva andare così io a questo giro dipende dai capitoli forse ok qua ci stanno alcune delle mie armi ok ok l'appartamento la cassaforte la cassaforte sperza e lupa andiamo mi abituerò mai ma però i dialoghi le hanno fatte bellini qua la serie di battute lascia stare le parolacce che nel linguaggio normale ci sono una serie da sergene ci sarebbero però le 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 battute che fanno sono simpatiche ora Giuliano ha rubato il tuo picello e ora puoi ancora riprendertelo si questa storia è da pazzi ah bello questo gioco comunque è bello questo gioco pensavo che fosse una mezza bo bo micio micio invece invece no ok bene andiamo di là comunque vediamo un po' ok il mio appartamento ok ma ne si ah comunque avevo ragione c'erano i cheater su vanguard già le hanno beccate gioco che ne hai visto fare ieri domani infatti faccio un po' di più quello là ne approfitto della beta per sbloccare qualche altra cosa però c'erano gli imbroglioni li hanno già beccati si si altri li hanno beccati allora abbiamo visto che mi conviene andare di qua di qua da qua allora vediamo un po' qua se c'è qualcuno oh la la era qua no allora dobbiamo andarci di qua così oh c'è qualcosa là dentro non essere ingordo ok stanno quelli là là non c'è niente oh no ho sbagliato sbagliato oh che è qua non posso più salire qua non posso più salire non posso più salire prima sogniamo ma ma c'è oh oh Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Eccolo. Ok. Ok. E qua. 2, 2, 4, 3, 1. Ok.